Parlando di nuovi progetti, ora vediamo una breve intervista realizzata nei nostri studi all'ingegnere navale Horacio Bozzo, che con Axis Group Yacht Design da anni affianca i principali cantieri italiani ed internazionali nella ingegnerizzazione di nuovi progetti e costruzioni. Axis Group Yacht Design è la mia società fondata dieci anni fa in Italia e offriamo un servizio di ingegneria navale ed è design abbinato. Ai cantieri noi provvediamo il pacchetto completo della ingegneria per costruire la barca e una caratteristica della mia azienda è che all'ingegneria possiamo offrire anche il design in uno stadio previo, quindi il progetto si affronta da un foglio in bianco partendo dal concetto e dal design architettonico per poi evolvere e sviluppare tutto il pacchetto di ingegneria completo. Noi a Viareggio, devo dire che in questi ultimi dieci anni abbiamo lavorato praticamente con quasi tutti i cantieri di Viareggio, da Beniminavi al gruppo Axis Benetti a Codecasa a cantiere San Lorenzo, la FIPA, Tecnomar, ora forse mi sfugge qualcuno. E non solo a Viareggio, abbiamo anche lavorato in Francia con cantiere Gikwac, abbiamo lavorato negli Stati Uniti, in Russia e ora stiamo lavorando anche in Cina con un progetto che sta partendo in questi giorni. Lavorare con il cantiere Perinavi per questa prima barca motore in acciaio e alluminio con queste caratteristiche di barca Ice Class è stata una sfida, ma è stata un'esperienza molto molto positiva. Green Voyager è una barca che è nata dalla richiesta di un armatore. con due intenzioni ben precise. Fare una barca non inquinante, una barca che eviti ogni tipo di sprechi. Come siamo riusciti e come stiamo riuscendo a raggiungere questi obiettivi non certo facili. Il problema è stato affrontato da un punto di vista sia architettonico che ingegneristico e questo secondo me rende il progetto molto interessante. A vedere la barca si nota subito che non è una barca tradizionale sia dal suo aspetto esterno, visto che ha una plua verticale e non è questo per esempio questa caratteristica non è soltanto un capriccio del design, un capriccio stilistico e bensì la risposta a una necessità di lograre maggiore efficienza nello scafo. Quindi c'è un motivo tecnico valido. E qual è il motivo tecnico valido? Nel fare questo scafo a plua verticale abbiamo raggiunto uno scafo più efficiente del 16% confrontando con una barca convenzionale della stessa lunghezza. Il Green Voyager è una barca di 44 metri dislocante con un scafo in acciaio sulla struttura in alluminio con un range trans-specific capace di fare 16,9 metri di velocità. La costruzione inizia a Giorni a Hong Kong, nel cantiere Kinshi. Io sono argentino d'origine e il mio modello, il mio modello da sempre, prima di iniziare gli studi di ingegneria navale, è stato German Fresh. Lui ancora chiaramente è un mio compatriota per quello che riguarda la progettazione di barche a vela. Subito dopo il salone di Forlora di questo anno qui mi ha contattato lui e ci siamo visti, in effetti stiamo iniziando a collaborare insieme, quindi per me questo è stato un grande un grande onore, un grande riconoscimento al lavoro, a tutto lo sforzo del lavoro fino a da fatto.